Simpatica iniziativa quella che avrebbe deciso di compiere Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio Italiano a Firenze, capoluogo della città e capoluogo della regione Toscana. Infatti avrebbe realizzato una sorta di consultazione politica per la strada e avrebbe chiesto ai cittadini, o meglio alla gente cui, te lo faresti un accordo con il Movimento 5 Stelle? Tante sarebbero state le proposte o meglio le risposte che sarebbero ovviamente pervenute. Ricordo a tutti quanti voi ascoltatori di Youtube che la domanda in questione l'avrebbe posta il giorno della liberazione, 25 aprile 2018. Alcuni avrebbero detto sì, altri avrebbero detto no, altri avrebbero preferito non rispondere dicendo un tiepido, non lo so. Sta di fatto che comunque la domanda non è passata inosservata, tanto che alcuni mezzi di stampa si sono occupati di riprenderla e di divulgarla su internet, quindi nel web. Una storia o meglio una vicenda questa davvero particolare che riguarda il presidente o meglio ex presidente del Consiglio Italiano Matteo Renzi. Grazie, un caro saluto a voi tutti. Questo video non vuole violare la sua privacy, ma solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe accaduto nel pieno rispetto della sua privacy e della sua persona. Grazie, cordiali saluti, al prossimo video. Grazie. Grazie.